Ciao a tutti ragazzi sono i Filtrator e benvenuti in questo nuovo video Oggi porteremo come al solito le 3, non proprio come al solito perché non è che le 3 solo si portano questi giorni molto spesso Ma principalmente perché voglio un pochettino ritornare ad allenarmi Visto che negli ultimi giorni praticamente vi sono allenato non solo per fare l'edit che avete visto domenica Ma anche perché personalmente vorrei arrivare a 300 vittorie il prima possibile E anche perché questo video lo vedrete nel mentre che io sarò in vacanza Sarò in vacanza dal 31 luglio fino al 7 agosto e quindi di conseguenza vedrete i video molto prima E lì preparerò praticamente adesso Quindi questo video lo vedrete giovedì 4 o giovedì 5 non mi ricordo quando è Adesso andiamo subito in partita Ok eccoci qua siamo nella mappa del castello team gold Vediamo un attimo che cosa si riuscirà a fare E poi se volete anche sapere un attimo le informazioni da texture pack che sto utilizzando in questo momento E si trova è l'alito sacca di texture pack che la potete o prendere con 4 euro mi sembra che lo sa 4 euro dal marketplace Oppure la potete ottenere gratis se vi fate l'abbonamento al realm plus Anche quello gratis per 30 giorni ma poi Finito il mese lo dovrete Lo dovrete pagare o 3 euro al mese per il realm da 2 giocatori O 8 per il realm da 10 Intanto andiamo dal blu Sperando che Che sta cavolo di erbetta è nulla Allora Io direi Però questo questo lo sto facendo un po' troppo OP Quindi meglio arrivare adesso Spammo come non mai Ok Ok Non mi sono preso un infarto Ok vai perfetto Problema risolto E stranamente senza aver perso il tesoro Per me sta cosa è un meme Perché ogni volta che Provo a rush a qualcuno Mi rush sempre a me poi E ci distruggiamo il tesoro vicenda Quindi ogni volta che Che non perdo il tesoro Quando rush subito gli altri E' già un miracolo Praticamente Perché poi mi vengono sempre a rushare Mi vengono sempre a contro rushare Quindi Ah già posso farmi già la full chain Perfetto Mi vengono sempre a contro rushare E personalmente non voglio che questo accada Ok C'è abbiamo uno stack e nove di blocchi E io direi che Che è una mossa bella Andare a rompere le scatole All'acqua e al verde Non so che Sarà prevalendo nella sfida Tra Per i diamanti Per me penso Sta prevalendo il Verde Vabbè intanto distruggo il tesoro All'acqua Ok vabbè Dato il suo tesoro Chack Perché esiste Questa cavolo di immunità Non capisco la sua esistenza Ok vabbè E eliminato l'acqua Adesso andiamo a dire Che sarebbe la cosa perfetta Andare anche dal verde Mi sono preso un jumpscare Madonna mia Per me si è suicidata apposta Ok Per poter l'altro La chicchia un pochettino Ok è stata eliminata Allora Io direi Andiamo da magenta A sto punto Facciamo il giro delle basi Cioè solitamente Quando gioco Sto fa sempre così Non vado mai al centro Vado sempre a far giro del base E rompere le scatole Agli altri Allora Magenta Non lo vedo in base Allora Intanto Intanto la vedo Il giallo full iron Ma pensi veramente Che un muro di Anson Mi possa fermare Allora Però sono l'unico Che c'ha il tesoro Quindi io di E che magari Ok è andato Rimango soltanto io E il giallo full iron Ok Sono ritornato in base Tra l'altro ho fatto anche La bellezza Di sette uccisioni Fino adesso Quindi E la madonna Venti diamanti Che cavolo è Faccio full iron Spada in ferro E Poi che altro Non lo so Molto probabilmente Gli altri Mi lascio Ok Full iron E spada in ferro Ok Non so Non mi sembra Di aver visto Che il giallo Stia andando in base mia Però se si fa Full diamond È abbastanza Un problema Ok Ah veramente Ho così tanto oro Allora Io direi Anche che Che Di fare un poto al centro E magari andare da lui Ok Vedo che è ancora al centro Che non è Tornato in base Con gli smeraldi Mi conse- Ah sta andando su No Non ci credo E poi si è fatto anche full diamond Non ci credo Eh vabbè rip Non so per cadere Con i blocchi che c'ho Devo riuscire perlomeno Ad arrivare sopra l'albero E qual è Il La limite d'altezza Magari Mi metto qua sopra E vedo un attimo Che cosa fa Ok In realtà ok Un bel paio di cavoli Perché voglio andare proprio sopra sopra Ma sta facendo un pilar da me Sta facendo un pilar da me Questo È decisamente un problema Io voglio vedere se c'ha Vieni qua Vieni qua dai Vieni qua se hai coraggio Non li puoi spaccare Non puoi spaccare i blocchi Della mappa Genius Ma perché mi blocca Ma che cavolo vuole fare Ma Vuoi spiegare che cavolo vuole fare Vedo che c'è un po' L'idea confuse Vedo che c'è un po' L'idea confuse Perché veramente non sta facendo altro che bloccarmi qui dentro Oh Che vuole fa Che vuole fa questo Ce l'ho non sta capendo Che vuole Oh Ma scendi giù e combatti Ma dai Ok Oh ma come ho fatto a prendere Ah vero Vieni Vieni dai Ma Io vabbè Non aggiungo altro Ciao raga Lasciate un bel piaccio Iscrivetevi al canale E fatemi sapere se volete altri video del genere Io vi saluto perché è veramente una roba Vabbè Avete già capito da voi Dal video Ciao raga Ciao raga